Da 3.000 a 24.000 euro di multa, giro di vite per i locali pubblici per un decreto legislativo entrato in vigore in questi giorni. Chi non indicherà le sostanze che possono causare allergie presenti negli alimenti venduti nei bar, ristoranti, gastronomie, rosticerie e pizzerie rischia infatti pesanti sanzioni. Dall'Appe di Padova, l'Associazione Provinciale dei Pubblici Esercizi, parte l'appello all'Ispettorato perché queste regole siano ammorbidite almeno per le imprese più piccole, mentre a disposizione degli esercenti c'è già un software che crea per ogni azienda un elenco delle sostanze contenute nei propri prodotti. Prossimo passo è quello di affrontare il problema di una molecola cancerogena, l'acrilamide, che si forma quando i cibi sono troppo cotti.